Ciao amici di MyFootballGersey, oggi vedremo la comparazione di una delle maglie più belle di questa stagione, la seconda del Bayern Monaco, in versione player, che è quella che indosso, e nella versione fan. Seguito il video fino alla fine per vedere la diversa vestibilità che hanno le due maglie. Ciao, a dopo! Come al solito vi dico che una delle principali differenze tra la versione fan e la versione player, è il fatto che nella versione player i simboli dell'Adidas e del club sono termosaldati, mentre nella versione fan questi sono cuciti. Questo vale anche per le stripes sulle spalle. Un'altra grande differenza è la trama del tessuto utilizzato. La versione player è molto più preziosa. Questa maglia è bellissima e non potevo fare altro che farne una comparazione, perché è una delle maglie che mi è piaciuta di più di questa stagione. Quella che vedete è una taglia large della versione player. La versione player è quella pensata per il fisico degli atleti, quindi è più attillata e è sconsigliata per le persone che hanno un pochino di pancetta. Questa invece è la versione fan, quella pensata per i tifosi, quindi un po' più comoda, che costa anche un po' meno. E questa ad esempio, a differenza di quella che vedete di fianco, è una M. Io normalmente indosso una taglia media. Della versione fan va benissimo questa taglia. Della versione player devo sempre prendere una taglia un pochino più grande. Ora spero che questo video vi sia piaciuto e indipendentemente che vi piaccia più la versione player che la versione fan, vi ricordo che in descrizione trovate il link per le recessioni complete. Prima di salutarvi, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Ciao!